Centinaia di familiari dei passeggeri del volo Malesi Airlines MH370 sono attesi nei prossimi giorni a PERT, nella speranza che le ricerche in corso consentano di recuperare i corpi delle vittime. Dopo oltre due settimane di incertezze, le autorità malesi hanno annunciato che l'aereo è con ogni probabilità precipitato nell'oceano indiano, a circa 2.500 chilometri dalla capitale dell'Australia occidentale. Dopo l'interruzione dovuta al maltempo, l'autorità australiana per la sicurezza marittima che coordina le operazioni ha confermato la ripresa delle ricerche che si svilupperanno su tre zone, che coprono complessivamente 80.000 chilometri quadrati. Il primo ministro australiano Tony Abbott ha dichiarato «Dobbiamo solo continuare a cercare, abbiamo il dovere verso i parenti dei passeggeri, di fare tutto ciò che è umanamente possibile per risolvere questo enigma». Intanto le autorità della Malesi hanno riferito che i satelliti francesi hanno individuato almeno 122 oggetti galleggianti, a circa 2.557 chilometri da Pert. Uno di questi oggetti supererebbe i 23 metri di lunghezza.